Shave, shave, shave. Shave, shave, shave. Like a bomber. Like a bomber. Shave, shave, shave. Shave, shave, shave. Like a bomber. Like a bomber. I bomber passano a livello superiore. Arriva Gillette Labs, il rasoio dal design rivoluzionario. L'unico con barra integrata che rimuove le impurità. Per una rasatura e un comfort superiori. Shave like a bomber. Gillette Labs. Grazie.